Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video Allora, oggi siamo qui, anche con un modo un pochino più creepy perché stiamo per andare a fare la nostra prima reazione il nostro primo video reaction a i glitch perché? Perché l'altro giorno avevo registrato insieme io e la mia fianzata, soffida, assata avevamo registrato insieme il video di KFC dove mangiavamo il KFC e leggevamo appunto i vostri racconti horror per la normale e c'è uscito il discorso glitch lei poi ci deve raccontare una cosa perché me li vi ha promesso che avrebbe raccontato le glitch però, dato che noi è una cosa che facciamo proprio è metterci tipo sul letto e guardare cose perché abbiamo appunto lo tipo davanti dato che stiamo a dupirla e abbiamo deciso di fare le pirle insieme a voi quindi, andiamo comunque non vedo l'ora che questa stanza sia finita perché dietro ci saranno cose cioè, regà, è una montagna che dorme che respira ma regà, secondo me, onestamente potrebbe anche essere letteralmente il pavimento che cede ah, questo è figo cioè, tutti gli alberi vanno di là questo è l'unico albero che si sono dimenticati di settare e va dall'altra parte questo è figo, raga questo è strano con tutto il vento a meno che non erano proprio rotte le foglie però, cioè, vanno tutti di qua non c'era un vortice d'aria lì, non lo so vero, oppure che a livello di grafica io pure sarei capacissima di prendere e girare esatto, quindi, boh andiamo avanti potrebbe non essere real quindi nello specchio no, palese fake mamma mia, cosa stiamo... che figo hai visto no, no, palese fake ce n'è uno quale dietro oddio, si è glicciato oddio, 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 si è glicciato davvero vabbè, però, vi posso dire secondo me si era fatto di qualcosa non è niente questo questo? questo è un buco questo? questa è fortuna è un attimo così quella è la fortuna, esatto oddio, quante cose che fanno sul presidente aspettate, vediamolo bene oddio, sembra che non sta andando da nessuna parte no, no, no fermissimi è palesemente un glitch fermati tantissimo ha camminato per mezz'ora su nulla sì no, regà questo è palese glitch cioè questo l'avevamo visto questo l'ho visto sì, sì, sì non vorrei che fosse stato fatto apposta ma ci sono tante cospirazioni che di peri potrebbe averlo fatto apposta sì, secondo me l'ha fatto apposta però l'ha fatto un po' troppo bene non lo so, regà non ho idea come ha fatto... no come ha fatto ad entrare cioè è vero che quella macchina non è stata lì tutto il tempo o è volato e si è infilzato o è cresciuto dentro la macchina per 80 anni non ha senso è veramente un glitch non ha senso come è possibile? no, questo è inspiegabile no, no no questo è inspiegabile veramente Lady Gaga ma ha solo gli occhi chiusi dov'è il glitch? potrebbe essere... ah, per me è uno spettacolo è uno spettacolo che sta andando da lonti? in avanti ma ci ha messo teore per stare in macchia che ansia? era sicuramente fatto infatti cioè mi sembra più una persona era sicuramente fatto ma che... ma... no, no sicuramente pensavo a quello sì no, raga è palesemente fatta vabbè andiamo avanti mi dispiace non pensavo che c'essi uso il bro ha deciso di dormire vabbè il bro dorme questa è la Kardashian ah, sì Courtney Courtney quasi ah, in diretta proprio si è buggata tanto che sono arrivati guarda per favore potrei essere io? sì oddio raga oddio oddio è posseduta raga guarda lei guarda la giornalista sì guardatela non sapeva che fare oddio oddio ma è piatrificato da una parte esatto che per carità anche questo potrebbe essere una cosa che semplicemente succede però piatrificus totatus metà questo è quei Stranger Things credo solo che sia una persona strange ma che ma dai ma ma è strano ma what sì ma andò so finiti proprio qui no raga che è una strada che si guida così questo è strano ma cava un pezzo ah scusa da dove è uscito quel tizio cade da nulla o sì guarda raga cade da niente questo è uscito da nessuna parte c'è una persona dietro di lui vedi è il bimbo ti sei gliciata sì è il bimbo è il bambino ma la palla ha dato da uscita ma la palla non c'era raga raga la palla è uscita da assolutamente nessuna parte raga quella palla non c'era ma qua la palla non c'era da nessuna parte no soltanto se c'era il fondo non l'abbiamo vista in inquadratura ma non dipende il fondo appare da nulla praticamente ma sì magari però no 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 appare proprio da nulla è strano stranissima no non c'è palla è vero non ci sembra no non c'è palla non c'è niente non c'è palla un cane un cane un cane un cane da dove amo mi affermò lì mi sembra che appare da nulla ma poi quell'altro sparisce appunto è tutto strano no ma questo non c'è cioè guarda non c'è non c'è appare oddio e poi è come se cancellasse l'altro più pasta più lo cancella infatti comunque io ho sempre trovato interessante il reparto paranormali e cose inspiegabili alieni è buio è buio mamma vabbè uno zio di un aspetto un po' spaventoso non è un lice raga era uno per uno oddio si cambia faccia così vabbè uno sta no era un uccello come è successo a me ah è vero e da qui parte il racconto vai sì mi trovavo tipo in un lago sul lago e c'era questo uccello che era così era in aria non batteva le ali era fermo le ali aperte è durato circa cinque secondi sai no no e tu che hai fatto e niente cercavo di ma io l'ho svisso cioè nel senso non l'ho visto proprio ero con altre persone e ho detto guardate mi sono girata era così e poi è ripartito no stranissimo poi da quello che so un uccello se non batte le ali non può volare quindi appunto è questo capito era fermo era fermo raga questo è strano raga ed è stato ripreso da più persone quindi questo è strano questo è strano strano forte sì un altro uccello ah ecco io vi sto per voi e poi dopo è ripartito no questo è strano che strano è un cane raga talking to eccolo c'è lasciato c'era l'ombra no mi sa che era l'ombra del bambino no perché il bambino se l'era andato è uguale identica a quella del bambino che è il bambino è ma comunque un bleach cioè sì sembra che l'ombra del bimbetto si sia glitchata oddio raga veder pan no che strano barbarbero se la stanna da solo devi sentornarlo barbarbero ha bevuto due birre pipino dove sei no guarda che sbatti con tutti perché è briaco tutti che orecco non stai buono mettiti qui sta cagando no ciao io ve ne vado certo io vedo una scena così e la riprendo e basta io andrei a vedere ma secondo me qualcuno ha tagliato l'albero se lo sta a portare a crescita certo devi averne di forza per fare una cosa del genere però palloncini che si muovono può essere il vento quella era palesemente una persona che è passata e che si stava facendo il cavolo ma va tutto bene a meno che non erano un loro amico che questa cosa non è organizzata però dicono che era tipo non era lì e che mi vuole vorre sì oh sì ma ti ho sembra no no la faccia di cosa no ti sembra normale no per niente no è una maschera è una maschera oddio ma questo non è un glitch questa è non c'era a disposizione a lei ho preso quella da amazon questo è diventato di rarissimo ma sì ma c'è palese ma è un palese robò oddio l'ombra lo specchio specchio il tizio davanti era inquietante oddio è vero no fighissimo wow no è normalissimo boh a me sembra no perché ti va contro per oggi ci fermiamo qui questi erano i bug che abbiamo trovato è stato comunque divertente ma non abbastanza non sono abbastanza soddisfatta per la prossima volta vorrei trovare qualcosa di ancora più no e infatti penso che cercheremo anche su tiktok perché secondo me su tiktok c'è più roba per assurdo ormai youtube c'è poca c'è poca roba però per quello che abbiamo visto comunque io una mia idea su un glitch me la sono fatta e che veramente secondo me ogni tanto qualcosa di blocca quindi per me per me è sempre stato così e fateci sapere che cosa volete per la prossima reazione questa sarà una mini mini serie che porteremo per qualche settimana dove appunto reagiremo a cose quindi ovviamente su questa cosa qui quindi paranormale cose eccetera eccetera quindi niente amori miei ci vediamo come sempre nel video di domani ore 14 e 30 sempre qui sempre su questo canale ciao